Dopo una settimana d'inferno, parzialmente risolto il problema ascensori all'ospedale di Nocera Inferiore, che erano stati fuori uso, tanto da ingenerare il caos tra i visitatori diretti alle varie divisioni e reparti. Dei due impianti ad uso esterno, uno è tornato fruibile, l'altro invece, quello posizionato nei pressi della rianimazione, ancora no. Resta comunque un minimo di disagio, parzialmente aggirato grazie ai passaggi che il personale dell'Umberto I offre a chi lo chiede nei portalettiche ad uso interno. Azionabili però solo con chiave speciale in dotazione esclusiva del personale ospedaliero. Apparentemente una piccola vicenda, una piccola segnalazione, in realtà molto significativa nella difficoltà di tenere insieme i pezzi di un plesso, che nel tempo è rimasto lo stesso in termini strutturali e di dotazione organica, ma che si è triplicato nei numeri delle prestazioni garantite ad una popolazione di gran lunga superiore a quella degli anni addietro. Particolarmente in affanno il pronto soccorso, ogni giorno vi si registra l'accesso di centinaia di utenti che faticano ad essere contenuti nei box a disposizione, con tempi lunghi di attesa e prevedibile effetto di insofferenza, che spesso trascende in violenza, numerosi gli episodi di aggressioni a medici ed infermieri denunciati all'autorità.